Previsioni per mercoledì 30 ottobre. Il cielo si presenterà sereno o a tratti velato su buona parte della regione per gran parte della giornata. In serata si assisterà ad un graduale incremento della copertura nuvolosa sulla Sicilia occidentale legato al transito di innocui banchi di nubi alte e stratiformi. Le temperature rimarranno prevalentemente stazionarie. Venti deboli da direzione variabile o a tratti assenti di notte al mattino in serata. Nel corso delle ore centrali del giorno la ventilazione spirerà a regime di brezza con debole intensità. Mari quasi calmi o poco mossi tutti i bacini. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV.